In concomitanza con la festa della Repubblica e le celebrazioni per il centocinquantesimo dell'Unità d'Italia e in attesa di cedere il passo alla tre giorni dedicata al Festival del Gusto, Piazza Walter per una mattinata è stata il ritrovo di curiosi e appassionati di mezzi delle forze dell'ordine, ma non solo, che hanno fatto bella mostra nel salotto buono della città, con il personale dei rispettivi settori ad esposizione per spiegare tecniche e impieghi dei vari mezzi in esposizione. Dai carabinieri la Guardia di Finanza, dalla Polizia Municipale a quella di Stato, ma anche i mezzi della Croce Rossa Militare, il gruppo protezione civile e il gruppo giovani, i volontari alpini, la protezione civile, gli uomini del Goer, il gruppo sussistenza della Croce Bianca, i vigili del fuoco volontari. All'ombra del menestrello ce n'era veramente per tutti i gusti, anche se la parte del leone l'ha fatta l'esercito, presente con una mostra fotografica su Afghanistan e con una nutrita serie di mezzi di ultima generazione, impiegati nelle varie missioni di pace internazionali e che ultimamente hanno fatto anche risparmiare molte vite umane. Certo, sono mezzi di trovamenti di prodotti qua a Bolzano, da Liveco, sono mezzi dell'ultima generazione che gli eserciti amici, alleati che con noi sono in missione ci invidiano e che adesso stanno acquisendo anche loro. Sono mezzi particolari, molto protetti e che chiaramente rispetto ai mezzi precedenti sono un notevole passo avanti. Chiudiamo ancora con questa festa, Coronnello, voi siete qui anche per farvi conoscere dalla cittadinanza? Che genere di risposta avete avuto? La popolazione risponde sempre in maniera positiva, abbiamo un buon numero diciamo di visitatori e speriamo che la giornata continui così. Ma in mezzo a tanti mezzi militari il gioiello che forse ha catturato maggiormente l'attenzione dei curiosi si chiama Gagliardo, il 560 cavalli della Lamborghini, due modelli dei quali sono in dotazione alla Polizia Stradale di Roma e di Bologna che lo utilizza nei servizi di rilevamento velocità per il trasporto organi e per la vigilanza autostradale. Un vero bolide dotato di 10 cilindri, una cilindrata di 5200 centimetri cubici e una velocità massima di 320 chilometri all'ora. Prezzo del modello base 160 mila euro ma l'APS non ha sborsato un centesimo, paga tutto a Lamborghini tramite la fondazione Nando Peretti.